Quattro mesi fa al culmine di un diverbio, Pessarano a sangue un parente a Catania, sono finiti in manette padre e figlio con l'accusa di tentato omicidio. A Paternò quasi conclusi i murales contro la mafia realizzati sulle facciate di tre edifici di via Massacarrara, il primo dedicato a Pier Santi Mattarella. Domani a bel passo il premio Martoglio 2024, riconoscimento anche al giornalista e scrittore Luciano Mirone, autore del caso Martoglio misfatto di stato alla vigilia del fascismo. Domani a Paternò verrà aperta la Casa Matta in occasione della giornata del Contemporaneo 2024. Buonasera, ben trovati per questa edizione del nostro telegiornale. Due persone, padre e figlio, sono stati arrestati a Catania dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Quattro mesi fa passarono a sangue un parente al culmine di un litigio. Avrebbero picchiato a sangue il 2 giugno scorso un parente al culmine di un diverbio. A quattro mesi di distanza, a indagine conclusa, la polizia di Stato ha fatto scattare le manette per due persone, padre e figlio. I catanesi, Gioacchino di 58 anni e Giovanni Battista Spampinato di 36, per tentato omicidio, aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dai futili motivi. L'arresto è avvenuto su disposizione della Procura della Repubblica e sulla base di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari del GIP del Tribunale di Catania. Tutto è nato nel quartiere San Giorgio, dove i protagonisti abitano, dalle lamentele nei confronti di padre e figlio per eccessiva rumorosità. Da lì il diverbio, con l'esplosione di un colpo di carabina ad aria compressa da parte della vittima, che ha colpito alla fronte il 58enne. In quel periodo era gli arresti domiciliari, fatto che ha innescato il pestaggio da parte di padre e figlio nei confronti del parente, percossa al capo e nel resto del corpo con calci, pugni e con una stampella che questi utilizzava per deambulare. L'uomo è stato poi lasciato esamin a terra. Subito dopo, la richiesta di intervento a Polizia 118, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, in codice rosso, per ferite lacero contuse al volto agli arti inferiori e superiori, nonché con diverse tumefazioni, ecchimosi ed edemi in più parti del viso e del torace. Le indagini della sezione reati contro la persona della squadra mobile della Questura, nonostante la reticenza del ferito, che agli investigatori ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani, hanno ricostruito i fatti grazie alle testimonianze di alcuni familiari e a un sopralluogo nel luogo teatro dell'aggressione. Il sequestro della stampella e le immagini presenti sul telefono della vittima, due fotografie, la prima che lo ritraeva con il volto sanguinante tumefatto, la seconda a una carabina poi sequestrata, hanno permesso di individuare negli spampinato gli autori dell'aggressione. Per padre e figlio si sono schiuse le porte del carcere di Catania, Piazza Lanza. È incidente mortale a Catania a perdere la vita una motociclista di 26 anni di Mister Bianco. L'incidente è avvenuto lungo la circonvallazione, non chiara la dinamica con la ricostruzione affidata ai vigili urbani del comando catanese. Secondo una prima ricostruzione sembra che la moto si sia scontrata contro un'auto che procedeva nella stessa direzione di marcia da via Marco Polo in direzione di via Vincenzo Gioffrida. E a Padernò quasi conclusi i murales contro la mafia realizzati sulle facciate di tre edifici di via Massa Carrara. Il primo dedicato al presidente della regione ucciso dalla mafia, Pier Santi Mattarella. A Padernò quasi completo il lavoro di street art realizzato su una facciata di tre palazzine popolari di via Massa Carrara proprio di fronte all'ospedale cittadino. A volere l'intervento la Fondazione Federico II di Palermo con l'obiettivo di lanciare più messaggi insieme legalità, rigenerazione urbana e inclusione sociale. I volti di uomini che hanno dato la vita nel nome della legalità insieme ad altre opere artistiche che richiamano al tema sono l'elemento essenziale delle rappresentazioni. L'iniziativa che coinvolge artisti siciliani e internazionali dopo Padernò verrà ripetuta in altre città dell'isola per non dimenticare che ha lottato per l'affermazione della legalità per ricordare attraverso l'arte che non bisogna mai abbassare la guardia contro il malaffare che la lotta alla mafia deve rimanere un punto fermo per poter costruire una società migliore libera da compromessi e interessi personali. A Padernò su tutti spicca il volto del presidente della regione siciliana assassinato dalla mafia Pier Santi Mattarella. È un progetto voluto e realizzato dall'onorevole Gaetano Galvagno, presidente della Fondazione Federico II. È un progetto che parte da Padernò ma sarà realizzato in diverse città della regione Sicilia. L'obiettivo è la riqualificazione urbana, la valorizzazione di determinati quartieri. È stato scelto come tema la legalità, infatti in diversi murales saranno valorizzate figure come Pier Santi Mattarella, Pio La Torre. L'obiettivo è proprio sensibilizzare le nuove generazioni verso questi eroi che hanno dedicato la loro vita alla lotta alla mafia, contro la mafia. La Giunta Comunale di Adrano questa mattina ha approvato la delibera relativa alla costruzione di un nuovo asilo nido comunale in Contrada di Fesaluna. Vediamo. Questa mattina importante riunione della Giunta Comunale di Adrano. è stata approvata una variazione di bilancio per la costruzione di un nuovo asilo nido comunale che sorgerà appunto in territorio di Adrano. Ne parliamo con l'assessore ai lavori pubblici, Paolo Politi. Allora, l'assessore intanto, l'area dove sorgerà questo nuovo asilo nido? Allora, il nuovo asilo nido sorgerà nell'improssimità dello stadio dell'Etna. Nella parte sud, ben delimitata dal muro di Cinta, abbiamo un terreno di nostra proprietà e lì costruiremo un nuovo asilo nido. Lo costruiamo grazie ai fondi del PNRR e grazie a una ripartizione per fondi non spesi a livello nazionale, Adrano è destinataria di un ulteriore 1.728.000 euro e con questi fondi doteremo Adrano di un ulteriore asilo nido. Mi preme ricordare che Adrano passerà nel giro di pochi anni, forse un anno e mezzo circa, da avere un asilo nido a tre asili nido perché oltre a questo si aggiunge quello già esistente e quello che sorgerà in via San Leo, dove già i lavori sono iniziati per un importo di 2.500.000 euro e noi cerchiamo di dare risposte alle famiglie, così come diceva anche il sindaco Fabio Moncuso che per noi è prioritario dare risposte alle famiglie, guardare con occhi amorevoli verso le nuove generazioni, verso i bambini e noi dare risposte a quelle che sono le tematiche riguardanti all'infanzia per questa amministrazione è una grande prerogativa, se non la prima prerogativa. L'iter per questo nuovo asilo nido sarà molto veloce perché entro il 30 ottobre dobbiamo fare la giudicazione della gara d'appalto e i lavori inizieranno con la nostra consegna entro il 31 dicembre. L'iter è infatti molto snello e provvederemo da qui a qualche giorno ad inserirlo nel piano triennale delle opere pubbliche e a breve partiranno i lavori. Lo studio di fattibilità è stato redatto dal Comune di Adrano, mentre invece il progetto definitivo verrà redatto da chi si aggiudicherà i lavori. Verrà conferito domani, sabato 12 ottobre, presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso con inizio alle ore 18, il premio letterario internazionale Nino Martoglio promosso dal Circolo Culturale Atena è giunto alla sua 37esima edizione. Il Martoglio 2024 è stato assegnato a Felice Cavallaro per il romanzo Francesca Storia di un amore in tempo di guerra, Arianna Mortelliti per il romanzo Quella a fazzoletto color melanzana, Luciano Mirone per il caso Martoglio, un misfatto di stato alla vigilia del fascismo, Videobank Radio Jets Orchestra di Belpasso. Abbiamo intervistato Luciano Mirone sul libro per cui ha ottenuto il riconoscimento che fornisce una nuova ipotesi sulla morte di Nino Martoglio, non incidente ma omicidio. Il caso Martoglio, un misfatto di stato alla vigilia del fascismo è il nuovo libro di Luciano Mirone, giornalista, scrittore in nostra compagnia nel quale viene sollevata una nuova ipotesi sulla morte del grande drammaturgo di origine belpassese che lo ricordiamo è avvenuta e archiviata in maniera accidentale. Adesso con questo libro Luciano Mirone apre nuovi scenari. Quali sono? Più di un'ipotesi, molto più di un'ipotesi perché se noi dobbiamo sposare quello che diceva Agatha Christie, se un indizio resta un indizio, due indizi sono appunto un indizio più serio, tre indizi già fanno una prova. Allora noi dobbiamo considerare che non c'è neanche un elemento per poter dire che Martoglio sia caduto accidentalmente nella tromba dell'ascensore, così come la verità ufficiale ha detto oltre cento anni fa. Abbiamo invece cento indizi per poter dire che si tratta di un omicidio. Ma questo non lo dice il sottoscritto, lo dice il professore di medicina legale che ho intervistato, il professore Cristoforo Pomara, che dice che la ferita che è stata trovata alla fronte di Martoglio, non è compatibile assolutamente con una caduta accidentale da tre metri e mezzo, ma è compatibile con un colpo da corpo contundente sferrato con violenza oppure con una pistola perché è stata trovata una ferita all'acero contusa con notevole infossamento, con notevole incavo. Di quest'incavo non è stato descritto assolutamente nulla, per cui tutto questo fa ritenere che comunque la caduta accidentale sia da escludere. Non sveliamo altro perché invitiamo ovviamente il lettore ad approfondire questa interessantissima versione della morte di Martoglio, però a questo punto Luciano si può andare a una riapertura nonostante siano passati cento anni dalla morte di Martoglio sulla riapertura del caso e quindi di dare una morte certa. È difficile, ne ho parlato anche con Pomara, con il professore Pomara, il quale dice che si potrebbe fare, con le nuove strumentazioni che ci sono, molto sofisticate, si potrebbe fare se il cadavere è ancora conservato bene. Però deve passare al vaglio dei familiari, i familiari sono tanti, ne ho parlato addirittura con un pronipote il quale mi ha detto che nel momento in cui tutto era pronto per dare l'ok c'è stata una parente, una lontana parente di 90 anni che non ci stava tanto bene con la testa che ha detto di no perché per una questione evidentemente di carattere economico che ha tirato fuori, per cui teoricamente si potrebbe ancora fare. Domani sabato 12 ottobre verrà conferito il premio Martoglio a Belpasso, fra i quali ci sei anche tu. L'orgoglio è doppio perché i premiati in passato sono stati personalità come Andrea Camilleri, come Vincenzo Consolo, come Gesualdo Bufalino, Turi Ferro. Quindi veramente per me è stato un grande, è stata ed è un grande orgoglio essere premiato soprattutto da un club, da un circolo femminile come il Circo Latena che organizza la manifestazione. Verrà aperta al pubblico domani a Paternò in occasione della giornata del Contemporaneo 2024 la Casa Matta promossa dall'artista Salvatore Papa. Per l'occasione si svolgerà un convegno sul ruolo sociale dell'arte. Emancipazione e ruolo sociale dell'arte. Questo è il titolo di un'iniziativa allestita presso la Casa Matta di Paternò in via Falconieri 91 per sabato 12 ottobre in occasione dell'apertura della struttura per la giornata del Contemporaneo 2024 promossa da Amaci. Casa Matta è la casa laboratorio in perenne evoluzione dell'artista Salvatore Papa che si trova nel pieno del centro storico paternese. Dietro l'anonimato di un portone di un quartiere popolare si svela un universo parallelo che si snoda in un vero percorso iniziatico. Casa d'artista, biblioteca, centro polifunzionale, spazio di riflessione personale e di confronto. Il lavoro creativo e filosofico compiuto da Salvatore Papa nell'arco dei decenni prende forma e colpisce coinvolgendo e rendendo il visitatore parte attiva chiamato a riflettere sui temi sociali proposti. Il convegno moderato da Claudia Barcellona inizierà alle 17. Interverranno insieme a Salvatore Papa il mecenate Antonio Presti, presidente di Fiumara d'Arte, Carmela Cappa, soprintendenza di Catania, Antonio Viola, scenografo, Giuseppina Radice, storica dell'arte, Fabrizio Nicosia, psicologo e gli artisti Eleonora Bordonaro e Puccio Castro Giovanni. Era questo il nostro ultimo servizio, ci chiude qui questo spazio con la nostra informazione, grazie e arrivederci.